Buongiorno a tutti, siamo qui con Luigi Audetto, uomo partita in Salici Murazzo. 3-0 per voi, ti chiedo un commento a caldo su questa partita. La tua doppietta ha deciso un match infuocato, un derby infuocato. Vincere i derby è sempre bellissimo. Loro giocano per vincere il campionato, noi ci dobbiamo salvare. Andava affrontato con questa mentalità, perché dopo domenica scorsa con il piazza, dove abbiamo perso 3-0 senza scendere in campo, era importante reagire. L'abbiamo fatto nel modo giusto, tutti uniti, ed era la cosa più importante. Serviva una reazione, ne parlavamo anche con il mister. Ti chiedo cosa hai visto oggi sul campo, una squadra combattiva fino al lupo. Sì, abbiamo proprio visto una reazione rispetto alla scorsa domenica, tutti insieme. Fin dal pre-partita eravamo carichi, avevamo voglia di reagire rispetto a domenica scorsa, dare una risposta, trovarla all'interno dello spogliatoio. Il derby era la partita giusta per farlo. Un gol in inserimento, un gol fuori area. Oggi è una gran giornata per te. Sì, sono stato fortunato oggi, diciamo così. Era ora, bisognava sbloccarsi. Dopo tre partite dove non solo non avevo trovato il gol, ma neanche la prestazione, secondo me era importante dare una risposta anche a me stesso. Il derby, il gol da ex, è stata una giornata perfetta oggi. Ti chiedo se hai una dedica particolare per questi due gol. Sì, oggi c'era il mio ragazzo. Non viene mai a vedermi perché giocando alle 6 lavora in un ristorante. Era qua, sono contento di essere riuscito a segnare davanti a lei. La farei venire più spesso allora. Sì, tutte le domeniche se posso. Grazie mille. Grazie a te, ciao. Grazie a te. Grazie.